Un saluto gruppo, eccoci qua per la SOS University. Oggi parliamo di un tema caro al gruppo, che è un tema, diciamo il motivo per cui esiste anche questo gruppo ed è appunto la piorrea. La piorrea è quella malattia che colpisce quella condizione in cui si trova il paziente delle volte associata a carenze genetiche di difesa che colpisce appunto moltissime persone, moltissimi pazienti che portano poi alla perdita prima di gengiva, poi di osso, fino a arrivare alla perdita dei denti in stadio terminale, in stadio più avanzato. Quello di cui vorrei parlare oggi è un tema legato quindi alla malattia, alla piorrea, un tema che riguarda lo stadio iniziale. Lo stadio iniziale sono le prime ricerche che un paziente fa su internet magari quando sospetta di avere la piorrea. Quali sono i sintomi della piorrea? Voi l'avete mai cercato su internet anni fa questo? Sintomo di piorrea, sintomo di parodontite. Ok, con la testa fanno no. Ok, con la testa fanno no, non stai inquadrando, ok, per la privacy non stai inquadrando. Ed è ovvio questo, perché? Perché è un male silente. Quindi se uno non sente dolore, non ha un dolore forte, neanche gli viene il dubbio, ci avrò la piorrea. Tu prova a immaginare se hai un altro male simile, la celiachia, uno non sa di avere la celiachia. Va a fare degli esami, degli accertamenti, potrebbe essere che è quello. Poi alla fine dopo, sì c'è quello. Per uno che si sveglia a mattina ha un furuncolo sul viso, quello lo vedi. Ok, la piorrea se non ti viene diagnosticata, moltissimi pazienti non sanno neanche di averla. Tant'è che quando noi la diagnostichiamo, gran parte delle volte lo diciamo al paziente, il paziente casca dalle nuvole, dice io, la piorrea. Mi si muovono i denti, è normale, è l'età, ma non è la piorrea. E magari c'è una piorrea in questo stadio, come qua, c'è uno stadio avanzato, molto avanzato della malattia, dove chi ha visto non ha detto a suo tempo che c'era la malattia. Ok? E chi è che diagnostica questo tipo di problematiche? Il dentista. Quindi se il dentista la vede, la riconosce in uno stadio magari più iniziale come questo, vediamo che qua l'osso c'è, ce n'è ancora tanto le gengive, ma c'è qua sopra già uno stadio iniziale di parodontite, qua su, le gengive dovevano essere a questo livello e anche qua, e si stanno già riassorbendo e stanno scoprendo la radice. Questo è già uno stadio, a dire, il vero intermedio, dove qualsiasi paziente, se gli fai vedere i denti, non vede questo, ma vede lo spazio tra i denti e dice, ah, mi si sono allargati i denti. Certo, i denti perdono l'osso, l'osso se ne va, iniziano a muoversi e fanno così, la bocca con l'asso, e si aprono questi spazi, questi che si chiamano diastemi. Inizia a sentire caldo e freddo, perché le radici si scoprono, le radici qua sono sensibili. L'età, l'età, poi lo spazio non è che si apre dall'oggi al dolmani, si apre lentamente, nell'arco degli anni si apre lo spazio e quindi magari si inizia anche a abituare visivamente a questo spazio e dice, è normale, è il mio sorriso, è la mia conformazione del viso, ma la malattia sotto alle gengive sta andando avanti. E' un male silente la piorrea. Quello che ci può essere delle volte è un po' di sanguinamento, uno lava i denti con lo spazzolino e vede del sangue e dice, ma magari mi sono traumatizzato lavando i denti, ho lavato troppo forte i denti. Un altro sintomo può essere per esempio l'alitosi, avere l'alito pesante, perché i batteri che sono qua tra i denti, in questi spazi che si aprono, rimangono protetti, lo spazzolino non ci entra, in più si scollano le gengive dalle radici, i batteri iniziano a entrare sotto, dentro alle gengive e lì lo spazzolino non entra. Il fermentare di questi batteri produce questo alito, questa anidride solforosa quasi, che è tipico dell'alito del paziente che ha la parodontite, è dovuta ai batteri che sono delle volte qua nelle tasche, quasi sempre anzi, e delle volte anche nelle cripte linguali, ovvero delle fessure che c'è un'associazione, tantissimi pazienti che hanno la piorrea, quindi anche voi che siete a casa potete fare l'esperimento guardandovi allo specchio, di pazienti che hanno la lingua fissurata, lingua fissurata, e hanno questa condizione del tutto normale, la lingua fissurata non è una malattia, è una conformazione genetica della lingua, parte della popolazione ce l'ha così la lingua, non è una malattia, c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha. Si, poi c'è più o meno fissurata, ci hanno delle fessure come questa, questa è meno fissurata, e si deposita alla fine qua dentro alle cripte linguali i batteri, che sono poi la causa di questa malattia, che sostengono questa malattia. Questo cosa significa? Che se noi non passiamo il pulisci lingua sulla lingua e non andiamo a svuotare le cripte linguali, queste fessure che possono essere più o meno profonde, delle volte anche mezzo centimetro possono essere, questa è una lingua normale per esempio, vedete questa è una lingua che non ha le fissurazioni, vedete come una, ma non è che questa è una lingua normale, è sbagliato, è un altro tipo di lingua, c'è chi ha la pelle chiara e chi ha la pelle scura, chi è giallo, chi è bianco, chi è con la pelle grossa, chi ha il biotipo di pelle sottile per esempio, ci sono gli uomini alti, gli uomini bassi, ci sono le donne bionde e le donne brune, c'è chi ha le cripte linguali e chi non ha le cripte linguali, queste sono lingue che hanno per esempio una alta probabilità di andare a accumulare cibo, batteri e si associano poi con la piorrea, se più c'hai le cripte linguali e in più la carenza di fattori di protezione geneticamente come l'interleuchina 1, allora è una festa, è molto probabile che si sviluppa la patologia, cioè che avanza, se in più c'hai anche il dentista o non c'hai peggio il dentista che te la diagnostica, arrivi a 40 anni, 30 anni che già c'hai delle tasche avanzate, se in più c'hai magari, non solo non hai il dentista, ma in più hai dei problemi, magari non riesci a muovere le mani, c'hai delle patologie, pazienti che sono speciali, pazienti che hanno sindromi, non riescono a pulire la bocca, a 30 anni quelli perdono tutti i denti, se non c'è ogni giorno qualcuno che gli pulisce perfettamente tutti i denti. La piorrea quindi è un male silente, per riassumere quello che abbiamo detto, è un tipo di malattia che deve essere diagnosticata da una figura specialistica che è il dentista, perché se no non te lo viene a dire il vicino di casa che c'è la piorrea, che c'hai il brufolo sul viso, sì te lo dice il vicino di casa, che ci stai perdendo i capelli, te lo dice il vicino di casa, la piorrea è un qualcosa di difficile da diagnosticare se non sai riconoscerla.